Supercoppa italiana che sta per essere alzata al cielo. Sono andati al di là di ogni difficoltà, sono riusciti a sormontare ogni pericolo, ogni dubbio, ma alla fine il dubbio è stato dimenticato ed è arrivata la certezza, la certezza della vittoria finale, Pierre. Un trofeo che diventa sempre più importante, sempre più tradizionale di anni in anno e che conferma la loro forza questa Supercoppa che sta per essere alzata nel cielo e che racconta il trionfo, i sacrifici di questa squadra e ovviamente apre le danze e apre i festeggiamenti. Per tutti i tifosi, saranno loro i campioni di questa Supercoppa italiana. È il momento della classica foto di gruppo con tutta la squadra e soprattutto con la Coppa. È il momento di sorridere alle tante macchine fotografiche lì davanti a loro. Grazie.